sono stanco di aspettare quando arriva la giraffa gelataio bene, ma è scritto qui che il posto è questo, giusto? sì, sì, stiamo aspettando al posto giusto, proprio qui dopo un po' il gelataio giraffa arrivò dai piccoli animali ma purtroppo non aveva il carrello dei gelati con lui mi dispiace avervi fatto aspettare, ma ho perso il mio carretto dei gelati